Ecco siamo qui dietro la vecchia moschea e ora faremo una panoramica dei locali che si trovano qui vicino. Ecco qui abbiamo di fronte Alice, qui siamo di fronte all'hotel Old Port. Qui siamo di fronte al Da Vinci Bar. Ecco qui abbiamo Shisha King. Ecco qui di fronte abbiamo Gioego. Questi caratteristici ombrelli. Ecco siamo nella zona della Marina, questa è la Taberna Metapo. Ecco qui siamo al Castello Restaurant. Ecco qui di fronte abbiamo lo Isic. Ecco siamo arrivati vicino al Castello. Ecco come il ristorante dà il nome. Ecco qui abbiamo il Carly Wolf. Ecco qui abbiamo la Trattoria Pizzeria Vecchia Napoli. Poi abbiamo gli Abashi. Ecco qui siamo di fronte a Drauf. Proprio dietro il Castello. Metting Reading CO. Stretto. Artima. Siamo proprio dietro il Castello. Ecco qui abbiamo Copotenno che è proprio l'ultimo di questi ristoranti. Ecco con la vista del Castello illuminato terminiamo il video.